Oggi con grande soddisfazione accogliamo l'adesione del consigliere Carmelo Casano importante, significativa, perché il consigliere di cui conosciamo la storia amato sicuramente perché il suo successo è la prova del suo consenso ha deciso di aderire a questo progetto importante che vede la ricostituzione dell'area popolare che discende dall'intenzione nazionale e chiaramente ha in questa regione nostra una grande adesione. Dunque il progetto ambizioso dell'area popolare nazionale è quello di riunire tutte le anime all'interno dell'Udc e questo che volete fare anche all'interno del nostro consiglio comunale. Soprattutto il centro che è sempre stato il luogo in fondo della dialettica e quindi ci sono tante anime che lo compongono, però la dialettica è il principio di democrazia. Posso avere al suo interno un dibattito, ma che ci sia divisione, questo è assolutamente da escludere, la divisione è debolezza, è indebolimento. Sull'Unione proprio vorrei che non ci fosse dubbio. Il vostro progetto ci sembra di capire nazionale e Gela che ruolo avrà in questo progetto nazionale? Allora partiamo proprio da Gela, oggi è un giorno significativo perché Gela è sempre stata, e voi ovviamente che ne siete l'estensione, un luogo di grande contesa. Non solo geograficamente, ma l'appetibilità di Gela da sola rappresenta il cambiamento. Noi potremmo e vorremmo essere significativi, partire da qua per dire quanto è importante la legalità, ma quanto i siciliani hanno bisogno di essere liberati, molto. Da nove mesi sono indipendente, quindi già questo addio è avvenuto, si è concretizzato il passaggio. Oggi aderisco a un progetto nazionale dove vede tutti i moderati e i popolari che stanno cercando di fare un percorso per l'Italia per riunire queste persone che credono nella famiglia, credono nei valori, credono nel popolo e credono nel lavoro. Quindi questo progetto per me oggi trova molto entusiasmo, anche perché da incontri avuti a Roma, anche con Maria Moro, nonché la figlia di Moro, mi convigge molto di più perché guarda anche a sinistra questo progetto. E quindi ricordiamo che il stasista Moro negli anni è stato colui che il primo iniziò a dialogare con la sinistra. Voi siete area popolare nazionale, dovete adesso cominciare a avviare un dialogo con gli altri componenti dell'area di centro, primi fra tutti i componenti dell'Udc. Primi fra tutti i componenti dell'Udc, dialogo c'è perché abbiamo anche un comunicato dell'onorevole Cesa che è il segretario nazionale dell'Udc che parla di questo progetto, è un progetto ampio dove l'Udc sarà proprio uno dei primi partiti a condurre questa nuova avventura dove sarà un'area di centro che in Italia c'è tanto bisogno di area di centro.